ciao a tutti benvenuti a questo nuovo appuntamento di liberamente in camper oggi voglio parlarvi della sosta camper comunale a brescia intanto trovate l'articolo su liberamente in camper e con un nuovo format alla fine dell'articolo c'è la mia personale pagella e in sintesi ciò che penso dell'area camper in oggetto d'ora in avanti le aree camper dove mi fermerò avranno questa pagella finale ma torniamo all'area camper di brescia realizzata nuova si tratta di 15 stalli come potete vedere la zona di accesso ha corsie piuttosto ridotte perché perché in realtà è un parte del parcheggio che vedete dedicato alle automobili di cui 15 stalli sono stati realizzati per il camper ma l'accesso come potete notare è quello studiato per le automobili quindi se avete un camper superiore ai 7 metri e mezzo un motorhome largo 2 metri 35 vi sconsiglio di addentrarvi all'interno di queste corsie soprattutto se trovate magari un'altra macchina insomma qualche problema c'è dal momento che l'area è stata costruita nuova probabilmente mi sarei aspettato di trovare la strada un po più larga così come l'accesso che state vedendo in questo momento se avete un camper di 2 metri 35 difficilmente dovete fare un po di attenzione nei passaggi la caravan non è accettata già perché la caravan può stare fuori dove c'è il parcheggio delle auto che avete appena visto e qui come si suol dire casca l'asino perché perché il parcheggio delle auto è gratuito mentre l'area camper si paga come avete visto 8 euro eccola qua per 12 ore 15 euro per 24 ore successive si paga un euro in più ogni ora il che potrebbe essere giustificato come costo se avessi all'interno i servizi carico scarico delle acque comprensive in quell'importo oppure la corrente elettrica invece non è così la corrente elettrica come vedrete e l'acqua viene pagata a parte oltre il costo di accesso ed è il motivo per cui fuori dall'area camper trovate i camper parcheggiati mentre all'interno vedete soltanto il mio c'è anche da dire che in maniera molto curiosa l'erogazione dell'acqua e lo vedrete più avanti viene non a litri ma a secondi cioè voi pagate 50 centesimi per 117 secondi non ho capito bene l'unità di misura perché non si è in litri dal momento che nel nostro veicolo il serbatoio contiene litri d'acqua e non secondi l'area è nuova e molto bella come vedete è pianeggiante ma ahimè non ha un albero e cosa fondamentale non ha neppure una recinzione di sicurezza tra l'altro le telecamere che sono posizionate servono per la lettura della targa ma il parcheggio non è custodito e il carico scarico dell'acqua come vedete non ha una pendenza corretta e ciò che è peggio la vasca non è utilizzabile da tutti i camper perché posizionate in maniera tale che non tutti i camper riescono a starci come vi dicevo questa è l'erogazione dell'acqua con il pagamento di carta di credito così come l'ingresso ma non accettano post a pay qui vedete l'erogazione dell'acqua 50 centesimi 90 minuti poi potete aumentare ma diventano 117 secondi un euro quindi probabilmente c'è qualcosa che non quadra in questa unità di misura perché non è espressa in litri come normalmente ci saremmo aspettati dal serbatoio dei veicoli le piazzole sono ampie per veicoli di 7 metri e mezzo scordatevi però di aprire verandino perché la larghezza come potete notare non porta questa comodità tra l'altro questo è un parcheggio attrezzato e proprio non è possibile aprire il verandino l'erogazione della corrente elettrica anche questa avviene attraverso carta di credito però io devo dire in onestà che mi avrei preferito trovare un prezzo un pochettino meno salato nell'erogazione della corrente magari in quei famosi 8 euro per 12 ore magari anche solo un'ora di corrente l'avrei gradita qui è un euro e 50 per un'ora di corrente capite bene che il costo è abbastanza salato non ultimo uscendo dall'area abbiamo lo stesso problema che abbiamo trovato all'ingresso cioè una uscita piuttosto risicata negli spazi ma dopo l'uscita ancora una doppia s per uscire dal parcheggio dove un veicolo di fascia insomma taglia xl superiore ai 7 metri già 7 metri e mezzo avrebbe qualche problema in sintesi complimenti perché l'area è molto comoda per visitare la città lì in fondo si raggiunge la fermata metropolitana poliambulanza con un euro e 70 si raggiunge breccia quindi chapeau come si suol dire perché è molto comoda per visitare la città meriterebbe qualche passaggio in più per migliorare e per diventare un'area camper e non un semplice parcheggio attrezzato grazie a tutti